clicco su lucius e vedo questo signore dammi la forza bentornati o miei scomunicati nel sacro ordine 6bg games per un nuovo video ma io voglio venire ma che cazzo fa la lilith dai sembra di farla intro siamo qui per fare la patch 1.44 a osservare tutte le minuziosità e le gustosie che ci degna oggi con questo arrivo la lilith una grandissima patch signori se non ci fosse quel neo, quel piccolo neo che arriverà a brevissimo osserveremo il nuovo personaggio osserveremo i cambiamenti nell'abyssal expedition anche se abbiamo solo i primi cambiamenti in preview e poi insomma andremo a osservare tutti gli altri cambiamenti le altre piccole cose che sono state fatte spero di non fare un video di 35 milioni di minuti il che probabilmente sarà così vi ricordo prima di tutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sulle uscite ai nuovi video Twitch e Instagram su Twitch va da live con Afkarena con le vostre summon quindi se volete summonare andate a mettere il follow poi ci mettiamo d'accordo per joinare il vostro account e fare le summon assieme su Instagram invece posto aggiornamenti su Afkarena aggiornamenti sul mio account e le vostre summon salta pannocchiose quindi mandatemele anche se non vi rispondo subito prima o poi le vedo se il video vi piace lasciate un pollicione up e cominciamo ragazzi abbiamo subito il nuovo personaggio prepariamo immediatamente tutte le varie cose c'è da dire veramente tantissima roba Dreads Dreads The Quicksand Recuse il personaggio si analizza abbastanza alla svelta in realtà ragazzi mettiamoci un oh lì ah ok sì giusto è qui allora questa è l'Arena of Trials è quello che dicevamo prima ragazzi lo analizzeremo dopo c'è tutta una roba dentro ma vi lascio un attimino in hype intanto ci lasciamo questo in modalità per due e ci vediamo le abilità del personaggio che è veramente fighissimo tra l'altro e che credo possa avere un discreto potenziale al di là dei danni stupidi e assurdi ragazzi che fa e che sciumpa Cristo Santo altro che Oscar che faceva il cosplay di Minato Namikaze mamma mia quindi andiamo subito a vedere Deadly Ambush Dreads si muove istantaneamente sul nemico quindi ci salta sul nemico più debole per i successivi 15 secondi segue personaggio su cui è saltato addosso e sarà la sua priorità per gli attacchi gli attacchi normali tra l'altro diventano più forti qui non parla di quanto però sembra che insomma di danni ne faccia diversi a occhio e croce considerando che di base a 4800 fighissima la carta buggata qui fantastica I love it un Lilith considerando i danni che fa in critico allora sì è giusto crita di continuo perché crita di continuo ragazzi bisogna vedere il moltiplicatore di base 120.000 fa dai 120.000 ai 179.000 beh sì deve prendere qualcosina di attacco perché noi abbiamo come vedete 48.000 arriverà più o meno a fare o forse un 50% del danno in più sugli attacchi base e poi picchia ancora ora vediamo anche le altre skip perché mi sembra che ci sia anche altro il livello 2 se il nemico muore durante la tempistica di questi 15 secondi il che è abbastanza auspicabile il nostro Dreads ottiene 400 di energia e poi 700 di energia quindi veramente ragazzi considerando che poi con gli attacchi base si fa la svelta a farmare l'energia come vedete salta su qualsiasi nemico di continuo a parte la ulti proprio è tutta una machine gun di colpi e salti e roba di agenza veramente assurdo quindi interessante la ulti bloody visceration quindi viscerazione sanguinosa sanguinolenta sanguinabile allora Dreads spinna in un cerchio in un cerchio completo facendo 210% i danni a tutti i nemici vicini riducendo la loro difesa del 70% per 8 secondi molto interessante peccato per lo scaling dei livelli che aumenta solo il danno fanculo ecco perché ogni tanto faceva quei dannoni disumani in più tactical retreat ritirata tattica quando Dreads va sotto il 50% della vita per la prima volta piglia e se ne va dal campo di battaglia per 5 secondi durante questo tempo recupera 100 punti energia al secondo quindi recupererà 500 di energia se siamo fuori dal campo di battaglia e usiamo la ulti Dreads ritornerà prematuramente in campo la meccanica che vorrei conoscere e sapere è se Dreads viene curato mentre è fuori dal campo credo proprio di no però inoltre se la ulti era in uso mentre per la prima volta va sotto il 50% questo piglia se ne va senza problemi quando ritorna sul campo di battaglia continuerà a usare quella ulti credo che si fermi anche il tempo o comunque che scorra in 5 secondi ma vabbè livello 2 quando Dreads ritorna sul campo di battaglia il suo attacco viene aumentato del 25% e avrà un life leach di 40 punti per 15 secondi quindi 40% del danno convertito in salute che non è male il livello 3 invece avrà il 40% di attacco bonus oltre al classico 40% di life leach del livello 2 quindi bei danni bei bella e flic interessante peccato che lo faccia una volta sola e non tipo 2 o 3 che sarebbe stato carino la Rabbid Slice Dreads ha il critico l'amplificazione critico aumentata di 40 punti e la sua attack speed di 15 già è interessante come buff iniziale quando usa il deadly ambush che dovrebbe essere la ulti esatto Dreads ottiene un addizionale 25 attack speed questa cosa ragazzi mi fa veramente emozionare pensandolo con Numisu mamma mia perché ragazzi ancora non ci ho fatto a portarvi il video ma abbiamo provato un Numisu con Gwyneth una cosa vergognosa veramente vergognosa in livello 2 la crit amplification aumentata a 45 punti sempre 15 di attack speed e 30 di attack speed quando è in deadly ambush il fatto che sia addizionale significa che vale questi sono base e in più avrà anche l'addizionale 30 con la ulti in livello 3 50 di crit amplification attack speed a 20 di base e poi attack speed a 30 con la ulti ora una cosa che sarebbe carino scoprire e no ancora non ci andiamo su questo ancora no ancora no se non è ancora il momento andiamo qui andiamo qui su un altro pg random non ci dobbiamo andare su di loro fammi vedere cosa fa l'amplificazione critico i moltiplicatori del danno da colpo critico si basano sulla differenza esistente tra il valore amplificazione critico e resistenza critico ok se l'attaccante il difensore ha una differenza di 30 punti o meno ogni punto di differenza modificherà il moltiplicatore del danno da colpo critico dello 0.5% se la differenza tra l'amplificazione critica supera i 30 punti ciascun modificatore ok in totale il moltiplicatore del danno può essere aumentato o ridotto del 75% è molto importante che abbia amplificazione critico poi lo abbiamo se non mi sbaglio anche sull'aica adesso l'amplificazione critico no la probabilità di ricevere un colpo critico chi cazzare che aveva amplificazione critico gli aveva messo qualcosa tipo vabbè comunque sicuramente bei danni in più ecco perché a volte fa più danni con il critico lì un kit abbastanza semplice full dps bello ignorante la cosa interessante ragazzi sono sia la SI che le mobilie perché è un personaggio abbastanza ben pensato in generale è un full dps ottiene una fase di tankiness molto interessante grazie alla ulti dove in poche parole otteniamo un bello scudone che va in base al suo attacco che viene boostato in mille maniere del 400% che dura 5 schifosissimi secondi che sono pochi però insomma copre un terzo della ulti questo scudo può essere attivato due volte per battaglia al più 10 lo scudo è il 600% al più 20 abbiamo lo scudo che può essere usato per 4 volte che non è male comincia a essere uno scudo importante e al più 30 avremo l'800% dell'attack rating value per lo scudo il che non è poco insomma sembra possa tankare veramente tanto mobilia esclusiva arreda con 3 su 3 mobili rossi esclusivi ogni volta che l'abilità deadly ambush o deadly evisceration bloody evisceration vengono usate quindi deadly ambush è la ultima bloody evisceration è questa è lo spin oggi avremo a che fare con le canzoni purtroppo la stack speed di dreads verrà aumentata di 80 punti per 2 secondi ora 80 punti ragazzi è tantissimo 2 secondi sono pochi però probabilmente in quei 2 secondi tira tipo 60 milioni di attacchi il che ci piace un sacco veramente un sacco in più con il 9 su 9 l'attack speed viene aumentata di 150 punti però per 3 secondi che sono un secondo in più non è male vedo sempre di più la combo con un miso ragazzi e tra l'altro è un invader quindi la vedo anche con la team comp con scrag mamma mia come ci diverteremo è un agility tra l'altro ragazzi classe ranger agility quindi è anche un signor pg che va anche bello in combo con tylus abbastanza alla grande ok il personaggio in realtà l'abbiamo visto ora dobbiamo vedere l'altra meccanica l'altra meccanica che in realtà io quasi quasi me la gusterei in uno per ma si switchiamo qua arena of trials let's go come funziona allora fuck non vi ho fatto vedere le reward noi abbiamo da ora in poi un trial aggiuntivo ogni volta che esce un personaggio questo l'avevamo visto nella patch con una chest che ci dà 60 gemme le gemmettine 60 pietre viola per le summon che qui onestamente avrei preferito ci dessero la copia del personaggio su questo sono un po' poco d'accordo 300 gemme le gemmettine un milione di gold e un po' di merda fondamentalmente fa schifo nel senso che fa letteralmente vomitare poi uno arriva qui e dice va su questo sul dammi che era il fantoccio che stavamo provando prima che adesso è diventato la testaria fondamentalmente uno dice ok sti gran cazzi poi va a vedere i nemici e dice 240 come cazzo li batto io sti cristiani beh non li batto perché non sono al 240 con i pg ora questo è l'account mid game l'ho preso apposta invece no noi andiamo a iniziare la battaglia possiamo testare il personaggio senza essai ovviamente e senza mobilia figli d'un cane però lo possiamo testare asceso ci dà anche delle informazioni un pochino più tangibili sull'utilizzo di questo personaggio abbiamo anche Thor a random boh mettiamolo così e let's go lo proviamo un attimino let me bleed you dry k pride allora attacca da lontano all'inizio quindi non fa invade poi a un certo punto dovrebbe anche tirare una ulti sarebbe carino che lo facesse ok partita da ulti è molto lento a uccidere e non ce l'ha fatta mi sa ne 15 secondi quindi il trial fondamentalmente è una cazzata come vedete this is hunting ground beh è un banco di prova aggiuntivo ora magari se vedevo potrei essere onesto ce lo fa provare in diverse salse con diverse team comp a quanto ho capito esattamente qui possiamo provare alcuni pg oh lo possiamo provare con un misu let's go abbiamo il buon wukonghino che ok questo non lo battiamo carino che non siano scontati i fight beh si vabbè è carino che ce lo faccia provare oh mio dio come viene violentato fere vengono violentati tutti vabbè allora poi su questo ci torneremo magari non credo che ci voglia una guida però lo possiamo fare le reward magari lo faccio un pochino più lo studio un attimo le reward sono pessime non mi piace molto ma vabbè comunque abbiamo la possibilità di provare il personaggio in diverse salse in diverse team comp purtroppo non abbiamo l'essai sbloccata c'è un sacco di roba dove è quella del boss così almeno cerco di capire un attimino la situazione ah ok ah 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 giusto dobbiamo batterli tutti semplicemente per poter sbloccare l'ultimo adesso vediamo un po' in realtà possiamo rimanere qua perché non ci serve più la doppia grafica abbiamo da vedere tutto il resto io ragazzi vi voglio far notare una cosa la Lilith deve aver capito che io sono un attimino suscettibile su questo argomento perciò non l'ha inserito nella patch io stamani ero lì che mi facevo i beati cazzi miei sul test server per uppare e andare poi nella spedizione avvissale e gioco Lucius ogni tanto ci sono finito sopra ed ecco che clicco su Lucius e vedo questo per contestualizzare ragazzi dobbiamo far partire un'altra cosa perché se no non siamo abbastanza chiari si muovi quel remo muovilo si ok sto per tirare una madonna quadrata quindi è bene che mi calmi un attimo eccolo qua la skin ma cos'è lo testiamo lo voglio vedere lo voglio vedere ci vuole ancora la canzone le bolle le bolle le bolle le bolle le bolle le bolle holy shit quanto è saltapannocchie ragazzi come cancellare la dignità di uno dei personaggi più maschi più potenti e più ignoranti di questo gioco in un nanosecondo holy shit ragazzi holy shit pregiata tra l'altro pregiata sto cazzo pregiata purtroppo ragazzi non allora mi ha preso un contropiede averlo saputo prima mi sarei fatto un costume da marinaretto e l'avrei ballata ymca però purtroppo guarda non me fega nulla anche se prebeccherò un reclamo per copyright per questo video ne è valsa la pena ma le sorprese non sono finite ragazzi fuck ma è strida davvero? no 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 non posso vederla fuck ma aspetta un attimo dove cazzo è la skin di di Belinda no raga perdonatemi un secondo devo recuperare l'immagine perché putt allora Lucius ce lo siamo goduto non ci volevo entrare perché è veramente triste per me vedere certe cose poi sono curioso di vedere chi è che gliela compie secondo me la daranno gratis perché se no gliela prende nessuno ma io ve lo giuro non la mi rifiuto non lo faccio quell'evento non lo faccio non lo faccio ok non mi perdo a cercare di fare grafiche molto belle eccetera perché è veramente imbarazzante questa è l'altra skin che dovrebbe essere quella di Belinda perché se guardate bene eccola qua c'è la posizione più o meno quella fa vomitare con un drink in mano tra l'altro in un ombrellino al posto dell'asta molto mage che aveva prima questo è quanto allora dovrebbe essere lei il fatto di non trovare la skin ancora mi sembra molto strano però penso che metteranno più rewards più eventi eccetera beh mi piacerebbe capire com'è mai non la vediamo sì è assolutamente lei quindi queste sono le due skin fantastico ragazzi voglio veramente morire dopo questa cosa ma torniamo per fortuna alle cose serie per fortuna alle cose serie nella patch 1.44 c'erano anche altre novità la prima era l'abyssal expedition che cambia un sacco di cose ed ecco qua cosa cambia le reward per fortuna non le hanno abbassate se non mi ricordo male ora non mi ricordo se erano 20 o 30 qui le carte dello Stargazer ho paura che le abbiano abbassate non me lo ricordo onestamente ecco cosa succede che noi praticamente parliamo a fare la registrazione in arruola abbiamo la possibilità di fare tanto dura due giorni l'arruolarsi possiamo fare il casual che è quello senza enrollment senza bonus oppure irrispettabile che costa 3.000 gemme che noi investiamo 3.000 gemme per riottenere back 3.000 a duca e poi altre 3.000 a principe quindi sono altre 3.000 gemme il che non è male non è male per niente anche se insomma vabbè fondamentalmente il concetto loro è che ti metti ti levi 3.000 l'evento dura 14-16 giorni insomma sicché ci vorrà un po' e così via poi per arrivare a prendere le 3.000 e tutto il resto abbiamo la Duke Choice Chest che ci dà le 50 emblemi cioè le 50 casse scelte degli emblemi oppure 9.000 po' coins e poi principe quelle che c'erano prima credo poi abbiamo a Conte la scelta fra 50 e le po' coins e a Barone la scelta fra 400 Essenze di Twisted Realm e 1.500 po' coins quindi in realtà è molto buona la cosa perché non hanno cambiato molto semplicemente ci hanno messo una scelta in più sarebbe stato carino che inserissero entrambi perché fondamentalmente io qui a William me ne potevi mettere anche 18.000 ma probabilmente avrei preso comunque la scelta degli emblemi perché troppo worth alla fine 9.000 ragazzi sono 3 multi sono una carta in più più un mobile mitico garantito su 18.000 ci sarei potuto stare forse perché comunque due mobili garantiti più quelli che ti possono uscire per la via e in più la possibilità cioè la garanzia di prendere anche una carta mitica di crafting il che avrebbe giustificato un pochino di più vi dico la verità io li prenderei sono 4.500 e 1.500 per un totale di 6.000 due multi li prenderei dalle altre ma non assolutamente da qui perché 50 casse della scelta gli emblemi sono troppo worth rispetto a questo vedremo meglio anche se le mobili sono fortissime ragazzi poi vi farò vedere cosa succede con Talin con la mobilia a 3 perché ce l'ho fatta e però le SI sono sempre molto importanti quindi questa è la prima cosa che cambia sia i premi nuovi e che l'arruolarsi poi tutto il resto purtroppo lo dovremo vedere poi dopo quando entreremo giusto fatemi rimettere che mi arruolo perché non potremo entrare dentro all'evento ora abbiamo da vedere il wandering balloon il wandering balloon torniamo sul anche sull'alto sull'account del condor in gentil concessione andiamo a vedere se non l'ha già fatto probabilmente si e lo odio per questo ah è la misty valley what the fuck is that questo è il viaggio delle meraviglie quindi pardon holy moly ci sono viaggi delle meraviglie al momento quindi la misty valley purtroppo non abbiamo modo di vedere da dove comunque l'account del condor è al capitolo 22 andiamo a vederci le reward è un macello c'è veramente un botto di roba holy shit c'è un sacco di roba da fare in poche parole veramente un sacco cerchiamo di capire tutte le reward intanto su questo ci dobbiamo tornare allora abbiamo beh beh sono 20 blue 180 pietre viola che quindi ci fanno fare 3 viola per tutto il casino che c'è da fare mi sembra che sia anche un pochino complete chapter 17 to unlock e perché ah dal 17 ok questi sono tutti premi scelta hero reward c'è un sacco di roba queste che roba sono oh belle le pietre di 2 e le pietre di 1 queste casse gustose completa il capitolo 31 per non ottenere un cazzo fondamentalmente allora l'hero reward dovrebbe a quanto ho capito ragazzi dovrebbe essere un eroe come ci pare a noi c'è proprio una scelta di un eroe che ci pare ah qui non ci possiamo arrivare come funziona ok complete 20 stage in order 2 k si dobbiamo ci vorrebbe un account che ci permetta di capire si ci facciamo il mega tesorone figo figo finisce in 32 giorni quindi finisce a fine agosto e beh qui diventa importante lasciare il capitolo 29 perlomeno capitolo 31 ancora ancora ci importa una ricca sega sono un po' lesi i premi sono sempre un po' lesucci da qui consiglio sicuramente di prendere le emblem choice sempre quando possibile perché tutto il resto abbastanza ma è mille po' coins sono veramente lesi e da qua dipende cioè 400 possono fare comodo ma possono essere oneste anche 30k guild coins per poter prendere equip eccetera una bella sorpresa il misty valley che dovremo rianalizzare sicuramente perché c'è veramente un mascialo a dire ci faremo un evento a parte andiamo a vedere wandering balloon The Howling Wastes allora c'è già la guida di questo ragazzi e ora rivediamo velocemente abbiamo un pool di viola qui vedo che ha già preso due cose che immagino abbia preso due di queste qui di quelle blu poi 10 scroll già un po' meglio rispetto ai premi che stava andando fino a ora considerate che comunque al 21.50 e era questo cesso di viaggio delle meraviglie qui quello con queste cose brutte strane sembrano tipo griglie pecoce la ciccia sul fuoco laser quindi bene abbiamo diversa roba veramente tantissima il video sta venendo infinitamente lungo come immaginavo e mi sembra che non abbiamo da dire molto altro se no vabbè il x4 al battle speed l'abbiamo visto già sbloccato in varie modalità arena of trials l'abbiamo visto il bottone nella o clean ci interessa giusto il bottone cristallo risonante è carino lo voglio vedere sort by figo ascension tier faction tier figo così mi piace giusto per begin qua dovremmo avere adesso i pulsanti esattamente e come vi dicevo questa cosa qui ragazzi era quello perché qualcuno mi aveva chiesto ma non c'era il discorso del cosa no hanno inserito le classi per l'albero me lo immaginavo hanno inserito le classi per l'albero perché ora soprattutto nella spedizione avvisale è molto importante avere le classi divise buono poi 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 vediamo un po' cos'altro c'è senti che ottimizing vabbè questo sì qualche cosa che probabilmente non ce ne siamo neanche accorti questo non ci interessa e poi tutto il resto è fuffa quindi abbiamo analizzato tutta la faccia 1.44 ci dovremo rivedere assolutamente ma dovrò studiarci un attimo sopra per il misty ballet e sarà assolutamente importantissimo analizzare un po' di cose in più a tra l'altro ci sono anche gli stages rewards che cambiano in base alle cose un sacco di pocoins un sacco molto bene molto bene bene dai dai bello questo evento bello spero che non sia il viaggio no il viaggio delle meraviglie ad arrivare comunque quindi arriverà anche un altro viaggio delle meraviglie eh sì perché abbiamo viaggio delle meraviglie wine full gorge da vedersi il 3 il 3 agosto quindi un sacco di roba ragazzi stra mega contento che stia arrivando tutto questo sarà un bellissimo agosto soprattutto con l'abyssal expedition da gustarci alla grande alla grandissima perché ci sarà veramente sacco di roba poi vabbè qui potete vedere cioè ha migliorato un po' tutta la situazione hanno lavorato un pochino su diverse cose sarà mappa sarà sempre la stessa i nuovi boss come funzioneranno quindi poi vi riaccompagnerò passo passo per la cosa sicuramente quindi concludiamo qua con questo video ragazzi io spero che vi sia piaciuto se si lasciate una tonnellata di pollicioni up è tutto e spero che vi siate fatte anche un paio di risate insieme a me io in realtà non me le sono molto fatte queste risate che schifo che schifo quindi concludiamo qua io sono Sevgi ragazzi ricordatevi di commentare con le vostre impressioni lasciare un pollicione up condividere con gli amici il canale e il video e noi ci vediamo prossimamente per un altro video ciao ciao Grazie a tutti.